Airtek.com. Technology Networks Since 1982. Sistemi brevettati. Spiro. Piastra a capelli aspirante. Innovativo sistema. Di protezione professionale. Il rivoluzionario dispositivo, che, trasforma. La tua normale piastra. In una straordinaria. Piastra aspirante. Un accessorio semplice. Ma eccezionale. Per la tua salute. E della tua cliente. Indispensabile. In tutti quei trattamenti. Che esalano sostanze chimiche. Al passaggio della piastra calda. Di facilissima applicazione. Si adatta a tutte le piastre. Leggero. Solo 70 gr. Sulla mano. Tubo flessibile molto maneggevole. Tubo snodato sia sopra che sotto. Trasforma la tua piastra in aspirante. Una nuova fase è iniziata. Ostenta intelligenza professionale. La tua cliente. Non può che apprezzare. Ma penserà. Che sei un vero professionista. Un professionista consapevole. Un professionista intelligente. Capace di pensare. Sia a se stesso. Ma anche alla salute della cliente. È ora di pensare in un modo nuovo. Spiro. Piastra a capelli aspirante. Trasforma la tua piastra in aspirante. Advanced Performance Air Tools. Una scheda elettronica. Con microprocessore e software dedicato. Per un risparmio elettrico. Dotati del sistema Soft Start. Per diminuire i consumi. Inoltre. Sistema a doppio raffreddamento. Per aumentare la durata dei motori. Lunga durata nel tempo. Technology Networks since 1982. Sistemi brevettati. Airtek.com. Sistema a doppio raffreddamento. Sistema a doppio raffreddamento.ale diорi. Si, è capace di entr generations di 5 pezoti. Sistema a doppio raffreddo.agus che. È catac finderla dire di